Ciao amici di MyFootballJersey, oggi vi voglio mostrare la terza maglia del Bayern Monaco per la stagione 22-23 nella versione FUN, quella pensata per i tifosi. La terza maglia del Bayern Monaco 2022-23 presenta un motivo sottile ispirato ai simboli che si trovano sulle carte da gioco utilizzate nel tradizionale gioco di carte bavarese. La terza maglia ha un design pulito in grigio scuro con accattivanti accenti rossi sotto forma dei loghi sul davanti, polsini delle maniche e le tre stripes sulle spalle. Il colore ufficiale della terza maglia è Night Grey che si avvicina molto al nero come si può vedere dalle immagini. In termini di design la terza maglia presenta un motivo sottile composto da rombi profilati e simboli diversi. Questi simboli sono i semi delle carte da gioco tedesco, cuori, campane, ghiande e foglie. Gli inserti in mesh sotto le braccia e la tecnologia antiumidità AeroReady assicurano il massimo comfort ai tifosi. Devo dire che le maglie del Bayer di quest'anno sono veramente bellissime. La prima diciamo così non è stata tra le più belle ma la seconda e la terza e trovate in alto la recensione sono veramente strepitose e anche questa secondo me nella mia personalissima classifica prende 5 stelle il massimo. Qui in alto peraltro vedete il costo veramente molto basso e vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia ma anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi il costo diventa ancora più basso e conveniente. La spedizione è stata molto veloce questa è arrivata in 20 giorni e la qualità ottima il rapporto qualità prezzo è incredibile impareggiabile. Ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità e le misure quindi continuate a guardare il video se il video vi è piaciuto se la maglia vi piace vi prego di lasciare un like e di iscrivervi al canale per oggi è tutto ciao io sono alto un metro e 75 e peso a 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan è una taglia media della versione fan